Ben ritrovati, questa è Canale 2C dopo il Tg, la nostra rubrica di approfondimento che entra nelle varie tematiche e lo facciamo quotidianamente grazie alla presenza dei nostri ospiti in studio e a tal proposito vi presento l'ospite che abbiamo qui con noi. Ciao Pat, come stai? Bene, 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 grazie. Ti vediamo, come si dice, in perfetta forma, no? È facile stare in forma in Italia perché c'è la roba genuina e buona, se uno lo mangio. Beh, insomma, una volta forse era così, adesso anche qui in Italia sta arrivando un po' di tutto. Va bene, ma perché è arrivato il nuovo Kinder, invece io mangio aglio. Noi qui forse nella nostra area murgiana, nel sud dell'Italia, riusciamo a conservare ancora questa voglia di ricercare il cibo genuino, il pane buono, il vino buono, le verdure, la frutta, eccetera, ma nelle grandi città oramai si è invasi dai grandi mercati e si vada a mettere nello scaffale il prodotto che... Il multinazionale, il nemico di tutto, di tutti. Il nemico di tutti, Big Dolls, Starbucks, chi vuoi parlare purtroppo è proprio nemico di tutti. Ecco, tu sei cittadino, o meglio, tu hai la doppia cittadinanza? No, no, sono americano soltanto. Ah, solo cittadino americano? Ricordavo... Sto chiedendo per la cittadinanza italiano, però intelligentemente fino adesso non mi hanno dato forse di ciò. Perché intelligentemente? Potresti essere un cittadino pericoloso, no? No, ma non credo pericoloso, però diciamo una good pace italiano, no, 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 good American. Good American. E allora? Tu comunque i tuoi originati... Sono di Modugno, i miei noni materni sono di Modugno, ho ancora mia zia Maria, che poi è cugina di mia madre, che è ancora a campo, ha 84 anni, una grande, grande donna. Mentre i genitori paterni che origini hanno? Irlandese, detto, però non è... diciamo... Però il cognome italiano, Girondi è un cognome italiano. C'è il cognome di mia madre. Ah, cioè il cognome di tua madre. È una storia particolare, magari per un altro episodio. E ce la conserviamo per un'altra puntata di Canale 200. Noi appena tu vieni qui in Italia ti intercettiamo perché siamo un po' curiosi di capire questi Stati Uniti d'America da quando c'è Trump, come si comportano. Adesso Trump, oddio, è arrivato alla Casa Bianca vincendo le elezioni. C'è chi ha detto che ha vinto attraverso alcuni stratagemmi, è riuscito a demolire i suoi avversari su tutta una serie di situazioni. Ha fatto una bella pulizia di teste importanti, cambia lì, cambia lì, tutti i vertici e adesso si è inventato tanti nemici. L'Europa quasi, stranamente, dopo 50-60 anni diventa nemica degli Stati Uniti. La Cina, che è un grosso alleato, che ha comprato quasi tutto il debito pubblico degli Stati Uniti, di colpo è diventato un nemico, ha messo dazzi dappertutto. Sta un po' cambiando le regole. Il muro che vorrebbe costruire al sud, ai confini con il Messico, per evitare che arrivino gli immigrati. È un Presidente comunque che ha una grande personalità, un grande carattere e tra parentesi ha anche un grande portafoglio, perché ha un impero, anche se c'è chi dice che questo è un impero che comincia a scricchiolare. Tu che sei americano, ci puoi trasferire un po' alcuni di queste storie, di questi fatti, ma vissuti realmente, perché poi sappiamo che io sono un giornalista, ma spesso i giornalisti, come vedete questi giorni, vanno tutti dietro una determinata notizia. Si vuole dire che, per esempio, il governo in Italia, fra Salvini e Di Maio, è quasi alle pezze e a rotoli. Poi parli con Di Maio, parli con Salvini, ti dicono che in effetti non è così. Quindi i giornalisti in America trasferiscono le cose come realmente stanno o ci mettono un po' del loro? Allora, prima di tutto Trump è diventato Presidente, nonostante che ha perso l'elezione da 3 milioni di voti, perciò gli Stati Uniti è un Repubblica, non è una democrazia, perché la democrazia sarà un voto per ogni persona. Invece noi abbiamo il collegio elettorale è andato così, in questa maniera. Però mettendo Trump al capo dello Stato sarà un po' come mettere Maria dei Filippi al capo dell'Italia, perché Trump non ha nessuna esperienza nella politica, è un uomo da fare. Ovviamente è un uomo da fare, lui trasmette la sua mentalità e quello è di gestire il paese come un grande corporation. Noi stiamo vedendo pur in Italia recentemente che quando entrano i multinazionali escono i benefici magari di prima, è molto più efficiente per il profito dal multinazionale e molto meno dolce e gentile agli impiegati. Trump ha, come ha detto, una grande personalità, ma io ho detto agli italiani da 30 anni, l'Italia non è stata mai un aliato degli Stati Uniti, voi siete clienti, basta. Questa è la visione degli Stati Uniti? No, ma questa è la verità da sempre. Sono stati tanti immigrati italiani che sono andati negli Stati Uniti, mio nonno Rocco era uno di quelli. Comunque non ci sono più italiani negli Stati Uniti, io quando lavoravo con la campagna di Obama c'erano 75 mila passaporti italiani negli Stati Uniti e più di 150 mila passaporti americani in Italia. Adesso sicuramente questo è ancora peggio perché l'età media dell'italiano negli Stati Uniti nel 2008 era 78. E poi tanti italiani che conosci vado in America o io vado in America e poi ritornano dopo due mesi perché capiscono che negli Stati Uniti, a mio parere, stanno molto peggio di voi, non meglio, peggio di voi. Infatti ogni tanto faccio i calcoli che nessuno vuole fare, però la verità una famiglia italiana che fa 10 mila Euro di entrate pulite ogni anno è come una famiglia americana che fa 50 mila, perché quando inizia a ridurre, l'America dice sempre il numero lordo, quando toglie le tasse, quando toglie che devono pagare in gran parte per la sanità, immagini una famiglia può pagare veramente, non sto esagerando, 3 mila dollari per un mese di sanità se hanno i figli. Quindi in un anno sono 35, 40 mila dollari. Poi parliamo di IMU che mediamente sarà 3 mila e 500 Euro per una famiglia americana oppure sulla prima casa. Non parliamo dell'università. Alla fin del conto se facciamo un'amortizzazione di tutte queste cose, una famiglia italiana che fa 10 mila Euro è come una famiglia americana che fa 50. Quindi l'italiano parla senza andare in profondità. Questo è il problema. Senza fare una reale analisi. Sì, perché io ho detto stamattina al bar dove vado ogni mattina che cambio bar, perché sono un po' stufo di andare e entrare in bar e sentire sempre gli italiani che lamentano. Per esempio, stavo leggendo proprio l'altra settimana, quando qualcuno lamentava di Roma, allora ho fatto statistiche, eccetera, ma Roma è 30 volte più sicuro che Washington DC, il nostro capitale. Si mazza più persone in Chicago, una città di 2,7 milioni di abitanti, che in tutta l'Italia di 61 milioni di abitanti. E c'è anche la pena di morte in America. Sì, che poi non funziona. E questa idea, ogni tanto sento gli anziani che dicono, no, ma dobbiamo fare come l'America. Ma non funziona questo estremismo, non funziona affatto. Allora, quando noi italiani, voi italiani, magari un giorno mi date questo onore, quando voi italiani lamentate dall'Italia, ma la sicurezza volete pagare pure, i vigili costano, i carabinieri costano, i guardi finanze, tutti questi componenti costano, ma se questi componenti si sta facendo che la tua famiglia è 30 volte più sicuro in Roma e non a Washington DC. C'è un prezzo? C'è un costo? Vogliamo sempre lamentare? È veramente diventato non realistica l'italiano, per me, forse perché non viaggiano. Beh, l'America è tutto sommato una nazione molto estrema, cioè ti pone subito il bianco e nero, non c'è la via di mezzo. In America o sei ricco o sei povero. Purtroppo è diventato così, non era così iniziato negli anni Reagan, Reagan che è iniziato a abbassare i tassi sui ricchi, poi è andato contro i sindacati. Diciamo che abbiamo 40 anni che ormai l'hanno tolto il cuore della classe media, dove oggi come oggi la classe media americana, media alta, vive, hanno uno stilo di vita come i poveri italiani. Il famoso sogno americano, che negli Stati Uniti uno può realizzare tutto quello che ha in mente, ma deve essere veramente bravo e capace, esiste ancora? Io dico che il sogno americano esiste in America come il sogno italiano esiste in Italia. Io francamente sto qua da 30 anni, io conosco persone che non hanno nemmeno liceo, che hanno fatto un muc di soldi nella costruzione, nei panifici, sull'autifici, eccetera. In America non sarà possibile queste cose, perché in America non ce n'è più, si chiama penny capitalismo. Il penny capitalismo è come il bar, che è una famiglia, che la famiglia crescono i figli nel comunità, mandano le scuole alle comunità, loro tutti i clienti stanno dalla comunità, loro hanno ogni interesse di far bene a quella comunità. Poi si passa al capitalismo regionale, dove magari un cassaificio ha dieci negozi, non è più di soltanto Napoli, per esempio, però comunque le radici sono abbastanza importanti e loro fanno bene pure alla comunità. Poi purtroppo passiamo agli multinazionali, il capitalismo corporate, si dice in inglese, è quello nemico di tutti, è nemico di ogni americano, è nemico di ogni italiano, è nemico di tutti e quali sono quelli che vanno in giro nel mondo a vendere le bombe, gli armi. L'America ogni anno inventiamo un altro nemico, iniziamo con l'Afghanistan, Al-Qaeda, Corea del Nord, iraniani, iracheni, ISI, Siria e tutto questo alla fin del conto è per commerciale, per vendere tutte queste bombe aeree che creiamo. L'industria bellica, così la chiamiamo. E purtroppo, qualcuno che ha dubbi di queste cose è veramente stato in un altro mondo. Io capisco gli americani magari che non capiscono perché soltanto 7% degli americani hanno un passaporto, vuol dire che il 93% degli americani non vanno mai via dagli Stati Uniti. In Italia ormai voi siete più o meno cresciuti nella chiesa, e beato voi che ce l'avete ancora. L'America non esiste più in un certo senso, un po' tutti i scandali di pedofoli, eccetera, ormai il corporation che è nemico della chiesa, perché la corporation vede la chiesa come nemico, amico della famiglia, nemico del capitalismo corporate. Allora ormai voi crescite diversamente, stavo discutendo questo con un professore l'altro giorno, che io, nato e cresciuto negli Stati Uniti, in ogni classe, abbiamo la bandiera americana. Ah, qui da noi. Diciamo ogni giorno, I pledge allegiance to the flag of the United States. Noi ormai siamo un popolo guerrieri, basta. Se domani Trump si alza e dice che l'Italia non sta pagando un atto come devono, e dobbiamo buttare due bombe per far capire, sopra il Vaticano, per dire, lui avrà 40% del popolo il giorno dopo che dice sì, dobbiamo farlo. E una propaganda americana, che ormai tutta la media americana è nelle mani dei corporate america, loro in due settimane c'è un 60% degli americani che dicono sì, dobbiamo bombardare tutta l'Italia. E questo è un po' quando io rimprovero l'italiano per i capelli di New York, per la musica americana, per tutti questi americanati che iniziate a fare. Odio quando le persone vanno a me che vogliono che faccio questa cosa con la... e copiate la... ma volete copiare gli americani per le cose giuste, che gli americani non lamentano mai, che sono disposti a fare grandi sacrifici, che non esiste un ostacolo troppo forte per loro. Quale dovete lamentare? Invece, per esempio, voi, non lo so, non potete pagare il telefono e già tutte muine, tutte pianti, perdete la macchina perché non avete pagato le rate e come finito il mondo. Invece noi americani viviamo questa realtà. Tu vai in America, trovi le persone sotto il ponte e dire come va, lui, ah tutto a posto, può essere peggio, domani vado alla chiesa evangelico e loro ci danno da mangiare e si mangia abbastanza bene e poi io ho sentito che le prossime settimane sarà abbastanza caldo, arriviamo pure a 10 gradi, 12 gradi, allora si dorma abbastanza bene, quello è l'americano, è così, era l'italiano, perché io sono italo-americano, che non sono italiano e non sono americano. Senti Pat, tu, io non vorrei entrare molto nei discorsi dell'economia, però tu hai anche un passato da broker, tu hai lavorato alla borsa di Chicago e hai vissuto… Chicago, New York, Los Angeles, Svizzera, io avevo la licenza bancaria Svizzera per otto anni. Ecco, tu hai vissuto, adesso mi è tornato alla mente un po' quello che è accaduto nel 2007, no? Quando… 2008. Però è partito tutto dal 2007, nel 2008… Partito diciamo dal 1900, negli anni 80, però tutti dicono che proprio la cosa che ricordiamo, scusami se mi interrompo, è quando proprio è fallito Lehman Brothers. Sì, esatto, e questo è accaduto nel 2008. Però ecco, tu hai vissuto come operatore di borsa a quel periodo? Sì, sì, allora ancora io… allora io trattavo sulla borsa, ho fatto un po' di trading elettronica, però la trading elettronica alla fine è per me il giocare il videogioco è il casino. Fammi completare il discorso, adesso non lo fai più. No. Io ho sempre avuto una mia teoria personale che la borsa non serve a niente, non serve proprio a nulla, serve solo a dirottare flussi economici in determinate direzioni, per il resto non è quella che dà un reale vantaggio all'economia. Sei d'accordo su questa mia visione o no? Allora, tu hai tanto compagnia, infatti io ho scoperto un uomo che si chiama Chris Hedges dei Stati Uniti, è un uomo coraggioso, bravo, intelligente, mi piace, e lui ritiene pure questo. Quando io trattavo sulla borsa di merce, oppure la borsa di Chicago dell'Options, era molto più facile fare i soldi, perché io guardavo a te, tu entravi, io ricordavo che tu vendevi, io ricordavo che tu compravi, io so che tu sei debole di carattere e io posso… so, dico, alla fine del conto, quando stai sulla borsa è come gladiatore contro gladiatore, è una cosa che a me mi andava molto bene, perché in un certo senso le persone mi volevano bene, perché i soldi non sono, diciamo, gogliosi per i soldi, io voglio che tutti mangiano, tutti siamo bene, e ho portato questa idea alla borsa, è andato bene. Oggi come oggi, la borsa telematica, che ci sono questi stronzi, scusami, che chiamano giorno per giorno di ingannare i ragazzi italiani, uomini, donne, di trattare la borsa elettronica, quello più meno è come la Enelotto, invece magari Enelotto puoi vincere uno su centomila e la borsa elettronica può vincere uno su mille, comunque è veramente una cosa di evitare. Io sono d'accordo con te in un certo senso che la borsa nelle famiglie, nelle famiglie normali, mediamente, non serve niente, però purtroppo il corporate che serve molto la borsa, perché si prende un'azienda che vale dieci soldi e lo fa valere chissà quanto, in America si chiama i schemi piramido, allora loro sono molto contento di avere il popolo a giocare nel bitcoin, eccetera, e sicuramente c'è qualcuno che sta guardando e dice, ma vedi quello, io ho fatto 10 mila euro nel bitcoin, io ho fatto 3 mila euro, io sono un genio, io sono dritto, tutto qua, però frate, sorella, e domani lo perderai, e purtroppo alla fin del conto, come ho detto, su una persona che guardagna, cento persone hanno perso. È naturale, qui stiamo parlando, molti le dicono e la bacinella, si mettono 5 litri d'acqua e quest'acqua gira e bagna tutta la bacinella, però c'è un momento in cui si ferma solo da una parte l'acqua, se la inclini, e l'altro lato della bacinella non ha nulla. Se guardiamo a lungo termine quello che è accaduto con la borsa, tutti quelli che hanno cominciato a giocare in borsa negli anni 80, negli anni parafrasando il discorso dei gladiatori, a distanza di 30 anni hanno rimesso quello, quello e l'altro. Quindi alla fine vincono sempre i soliti, che sono quelli che fanno girare il meccanismo. Io non ritengo di provare di essere serio nei discorsi sempre, specialmente quando sto parlando con le persone che guardano Canale 2, che sono pugliesi, basilicate, persone, eccetera, eccetera, zona di Sud Italia, più che altro, voglio dire persone che io voglio bene. Allora non voglio essere, semplicemente dire no, non vale niente, vale qualcosa, per amore di Dio, senz'altro avrà il suo valore. Però nelle famiglie medie non è una cosa positiva, quando i figli dicono no, io devo trattare i bitcoin, io devo trattare la borsa, io eccetera, eccetera. Perché come hai detto tu, 99 su 100 nel tempo rimettono. Allora come dobbiamo fare? Per uno magari che può continuare a essere o furbo, intelligente, fortunato e continuare il suo successo, dobbiamo far negare i 99? E' contrario, Cristo dice quando nega uno, dobbiamo lasciare gli altri 99, non che dobbiamo lasciare i 99 per far campare gli uno. E' un discorso complicatissimo, però insomma, l'economia ha una sua massa, che è il monte di raro, chiamiamolo così. Se non va da una parte, vuol dire che va dall'altra parte. E' tutto qui, insomma. E l'italiano è proprio un vittima di questa mentalità, perché l'Italia è un paese ricchissimo, la famiglia media è ricchissimo. Io ti dico, una famiglia media, state un'utenze, se loro hanno 50 mila dollari di valore è già assai. Veramente. Certo, certo. In Italia ormai quasi ogni famiglia ha la casa, eccetera. Adesso stiamo bruciando in Italia. La stessa cosa. Tutto quello che i nostri nonni e i nostri genitori hanno costruito, perché abbiamo una generazione di italiani che non lavora più la mattina, si sveglia e accende il computer, non va più nessuno a lavorare in Italia. Diciamo che siamo diventati molto viziati gli italiani, perché arrivano i stranieri e lavorano tutti. Io conosco una copia di albanese che stanno qua, 12-13 anni, che hanno pagato per la cassa. Lavorano tutti. In contante. Certo. E allora il problema è che l'italiano è abituato a guardare assai a lavorare poco, non tutti, per l'amore di Dio, non voglio generalizzare, però purtroppo dobbiamo andare contro la verità. Gli americani oggi che sopravvivono lavorano 12, 14, 16 ore un giorno, voglio dire lavorano due lavori, tre lavori. Però noi abbiamo la generazione dei nostri genitori, io ho un papà che ha 84 anni, di conseguenza anche la mamma, quelli nati negli anni 30, negli anni 40, che hanno costruito l'Italia nel dopoguerra, vengono fuori da anni di lavoro, di sudore e di sacrifici. Noi oggi abbiamo la famiglia tipo italiana con magari al sud monoreddito, lavora solo il papà, moglie più altri due o tre figli, cinque persone, lavora solo uno. Se prendiamo una famiglia di albanesi, cinque persone, lavorano tutti e cinque. E gli americani, cinque persone, lavorano sei. Esatto, lavorano tutti e cinque. E poi non ci lamentiamo se gli altri... È la cosa che dobbiamo smettere. Dobbiamo entrare nella cultura del sacrificio. Ormai, prima magari gli italiani erano così, i cinesi così, però il mondo sta andando in questa direzione. Allora l'erba è sempre più verde, tutti questi detti che purtroppo sono... È vero, però dobbiamo smettere come l'italiano di lamentare e prendere un po', come hai detto tu, di quelle persone che sono cresciute negli anni 30 e 40, che sono cresciute a me perché sono arrivati negli Stati Uniti, io ero nato in un ghetto italiano, loro erano tutti gente degli anni 20, 30 e 40 e mi hanno insegnato i principi dell'Italia dei 30 e 40. E dobbiamo in un certo senso essere più italiani. Se vogliamo bene i nostri figli, io certe volte faccio queste non lite, ma scolta la gente che non dà i nomi dei nonni, non dà i nomi dei figli ai loro genitori. Per esempio è una cosa che mi dà fastidio, che non ti dico, che inventano questi nomi non so nemmeno io da dove vengono, Kevin, Brian, io dico, ma chi si è italiano è veramente scento, perché quando perdete la tradizione hai perso tutto. Perdi le radici. Io sono stanco di sentire le persone dicendo, no ma mia madre si chiama Analia o Pasquina o questa è brutta. Ma il bambino fa il nome, non il nome che fa il bambino, svegliati con queste idee un po' diciamo, non lo so, sono testardi o ignoranti in un certo senso. Scusatemi, lo so che tanti di voi non siete d'accordo. Ci sono alcuni nomi veramente terribili. Ma oggi terribili e domani sono belle. Scusatemi, quando io ho dato il nome al mio primo figlio nato qua ad Altamura, Rocco, Rocco delle pezze vecchie, era tutto quello che pensavano quando diceva Rocco. Quando ho detto che no, mio nonno mi è cresciuto, non Rocco Girondi, io devo dare il nome al mio figlio Rocco. No, ma è brutto Rocco, è brutto. No, è bello Rocco perché Madonna ha dato il nome al suo figlio Rocco. E allora è indutile a dire che certi nomi sono brutti. Oggi sono brutti, ma non sono belle, vanno in moda. Allora quando invece diamo i figli i nomi di moda del momento, non lo so, Jessica e poi tutti Jessica, ma fatti peggio perché fra vent'anni Jessica diventa brutto e invece Lucrezia diventa bella. Allora a quel punto d'anni il nome della Teng e la mamma e siamo a posto. Va bene, infatti tu sei sempre uno spettacolo, parlare con te è sempre un piacere. Senti, proprio chiudiamo la trasmissione, negli Stati Uniti c'è un'epidemia, c'erano più di 70 mila morti per questa epidemia di opioide, ecco ci vuoi parlare un po' di questa roba? Sì, gli opioidi, questi farmaci che i dottori danno ai pazienti per le depressioni, ansietà, ansiolitici, grazie, purtroppo quando togli questi farmaci dai pazienti si diventano peggio di prima, abbiamo 76 mila suicidi, infatti in Altamura nell'ultimo 3-4 mesi è arrivato che abbiamo perso noi due o tre persone, poi Altamura 71 mila abitanti siamo, non è che siamo a New York, però io dico ai genitori, ai dottori che stanno ascoltando, alle persone di allontanarti di queste farmaci perché ti fanno bene in un momento e poi ti rovina nella vita, negli Stati Uniti veramente stiamo avendo questa esperienza e dobbiamo stare attenti ai dottori che accettano i viaggi, che accettano i pranzi, offerti di questi agenti delle case farmaceutiche e tutto quel resto che convenientemente certe volte convincono loro stessi che stanno facendo bene ai pazienti a spingere a dare questi farmaci. Senz'altro ci vuole questi farmaci, però devono essere utilizzati con un cautela incredibile, perché io personalmente posso parlare soltanto degli amici miei, abbiamo due suicidi di un trentino di amici nell'ultimo quattro anni nei Stati Uniti. Tu sei anche vicino al mondo della solidarietà, sei uno che partecipa a progetti, finanziamenti anche per portare avanti la ricerca, insomma quindi sai benissimo quanto è importante anche un medicinale per curare determinate patologie, determinate malattie e purtroppo le malattie della mente stranamente vengono curate con medicine abbastanza, che creano dipendenza, ecco poi quando le togli o cominci a ridurre le dosi, può accadere che c'è la figura che crolla, perché è questo il dramma vero. Sì, sai che cosa? L'italiano di una volta, è ancora oggi, è un bravissimo personale, molti risorsi, immagini questa piccola peninsola, c'è il 50% dell'arte del mondo, non parliamo dei vini, non parliamo della moda, dei cibi eccetera, l'Italia è un grande paese ammirato per la famiglia nel tutto il mondo, ammirato per il cibo, l'italiano è un popolo che poi si riprende sempre, io quel che dico è che dobbiamo riprendere quell'intelligenza magari di una volta e iniziare a ragionare un po' meglio, lamentare di meno e di utilizzare il nostro senso comune e buone intelligenze quando il dottore dice prende questo farmaco o quando ci chiama il telefono e dice vogliamo che tu tratti il bitcoin, soldi facili per il momento non ce n'è e dobbiamo volersi bene e essere sempre più italiani. Grazie Pat, appena ritorni in Italia fatti vedere, fatti sentire così ne approfittiamo per farci una chiacchierata. Ok.